Quello che è particolarmente importante della bioeconomia è la sua capacità di rigenerare l'ambiente e di portare nuove opportunità in aree rurali, in aree costiere, dove difficilmente una nuova realtà industriale potrebbe inserirsi. La Commissione europea è molto attenta a questo, che già nel 2016-2017, nel World Programme del 2016-2017, ha previsto uno spazio proprio per la Rural Renaissance, cioè una serie di azioni, alcune dirette a sostenere ricerca e innovazione su queste priorità che menzionavo, però una ricerca e innovazione tagliata sul territorio, finanziamenti confinati, in cui la scala da raggiungere non è altissima necessariamente, quindi possibili con le risorse del territorio. Accanto a questo ha avviato dei bandi per mettere nuove policies che siano maggiormente a sostegno delle realtà locali e non da ultimo, ma non certo per importanza, delle iniziative dirette a facilitare il trasferimento delle conoscenze acquisite su questo. Trasferire, fare in modo che gli agricoltori in queste aree le possano comprendere, attuare, implementare sul territorio. Secondo me serve un maggiore coinvolgimento degli agricoltori, come secondo me è fondamentale che siano a bordo dei consorsi che applicano per i finanziamenti, cioè di coloro che si mettono insieme per preparare il progetto di ricerca. devono essere a bordo, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia a livello di Bruxelles, ovunque, qualsiasi configurazione devono essere a bordo, in questo momento spesso non ci sono. Grazie.